buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce so che non sto caricando molti video ma da settembre ritornerò regolarmente quasi ogni giorno a pubblicare contenuti però troverete un mister nichilista cambiato rinnovato che avrà toni molto moderati sostanzialmente farò video quasi tutti sussurrati perché non ho più la forza di gridare questo mondo mi ha tolto energia e quindi sentirete la mia flebile voce arrivare nelle vostre case e con la massima pacatezza con la totale rilassatezza che mi appartiene voglio dirvi con pochi decibel quanto segue non ne posso più di questo mondo di capre dei pensanti assoluti che credono di avere un cervello mentre non sono dotati neanche di un neurone è un mondo davvero oceano pieno di gente davvero mamma mia spacco questo microfono lo spacco lo spacco questo amico giuro che spacco questo microfono a costo di dover ordinare un altro su amazon gente vomitevole scherzavo ovviamente da settembre riparterò sì in quarta con video quotidiani ma con toni ancor più decisi con toni ancor più aggressivi perché dinnanzi a questo mondo allo sfacelo occorrono oltre che contenuti profondi anche toni vigorosi e decisi perché la verità va sbattuta in faccia non voglio però aspettare fino a settembre per dire alcune cose quindi oggi faccio questo video perché non posso aspettare ancora troppe settimane per manifestare ancora una volta il mio sdegno nei confronti della maggioranza delle famiglie la maggioranza dei genitori italiani e non è un video che qualcuno mi dirà ho già fatto è un argomento che ho già trattato ma non è mai non è mai abbastanza e tornerò sempre sull'argomento degli argomenti è la base di tutto genitori il 90 per cento dei genitori si dovrebbero vergognare chi abbastanza e chi moltissimo i genitori si dividono in quelli che non sono nient'altro che teste di e criminali assoluti e fanno parte di queste due categorie almeno il 96 per cento dei genitori poi un 4 per cento si salva buoni genitori ma per il resto criminali o teste di che dovrebbero stare dietro le sbarre ma davvero dietro le sbarre e buttare la chiave io sono convinto sempre di più che la maggior parte dei criminali veri siano fuori dalle sbarre dentro le sbarre dietro le sbarre c'è gente meno criminale di molti di coloro che sono fuori ricevo centinaia di storie decine ogni settimana migliaia da quando ho aperto questo mio canale che vanno tutte nella stessa direzione genitori vergognosi o criminali che non sanno nient'altro che fare del male ai loro figli quelle che dovrebbero essere le loro creature e come tali le creature più di tutti da amare da preservare da aiutare da valorizzare e invece non siete capaci di un cazzo veramente io non mi capacito non mi capacito non mi capacito non mi posso capacitare tutti uguali questi genitori l'unica differenza è che alcuni sono criminali veri e propri e altri testa di cacchio ma potrò potrò consolarmi in questa differenza a parte il 4% di eccezioni genitori che non fanno altro che fare paragoni e tuo fratello fa questo e tua sorella e guarda il figlio della mia amica e guarda il figlio del vicino e guarda tuo cugino giudizi pretese svalutazioni critiche distruttive zero capacità da amare zero capacità da amare vi interessa solamente se vostro figlio pulisce il cesso se vostra figlia pulisce i vetri e se lavora non vi interessa nient'altro non lo conoscete neanche vostro figlio non la conoscete la vostra figlia non sapete nemmeno chi sia dinnanzi a voi non lo sapete e la colpa è vostra non è colpa di vostra figlia che non vi parla è colpa vostra dei pensanti totali fallimenti totali e il vostro fallimento totale come persone lo volete riversare sui vostri poveri figli mi fate schifo lezzo immondizia fatelo cari figli fate sentire questi miei video ai vostri genitori caro genitore tu fai i paragoni con gli altri parenti o non allora apri bene le orecchie fai schifo sei un criminale sei un criminale in galera vatti a costituire devi andare al primo commissario a dire io sono colpevole arrestatemi ho passato il tempo a giudicare mia figlia e mio figlio a paragonarlo ad altri a considerare soltanto aspetti materiali del suo esistere le cose che fa in casa o i curriculum che manda solo questo ho fatto nella mia vita e non solo ho fatto solo questo e gli dico pure o le dico pure tutto quello che ho fatto per te tutto quello che faccio per te e non mi ringrazio nemmeno non hai fatto un cazzo stronzo stronzo niente avete fatto niente niente pagare i libri scolastici iscrivere all'università dare il cibo dare un tetto non è niente non è niente non è niente non è niente non siete capaci di dare il buon esempio non sapete educare all'amore non sapete amare non sapete valorizzare non sapete apprezzare cosa cazzo volete che me ne freghi del vostro schifoso cibo sareste genitori migliori se ogni giorno mettete sul piatto dei vostri figli il panino del mcdonald sareste genitori migliori se il cesso puzzasse di sterco di maiale ma sul piano umano qualche capacità in più non avete nessuna capacità e pretendete pure di voler insegnare qualcosa ai vostri figli ma che cazzo volete insegnare depravati e tantissimi tantissimi genitori soprattutto in questo caso con le figlie femmine figlie femmine di 20 anni di 28 anni di 25 anni che pretendono che pretendono che la figlia chieda loro il permesso per uscire di casa per frequentare un ragazzo ma come cazzo siete suonati ma come siete messi ma come ma cosa avete nel cervello criminale criminali ma veramente io andrei a casa di ognuno di voi e vi sputerei infanzi no 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 non siete degni del mio nobile sputo se io vi sputassi in faccia vi nobiliterei io vi guarderei in faccia e vi direi proprio ma che cazzo di merda che sei ma vatti a costituire necessiti di rieducazione tu si non quello che ha rubato le mele mamma mia ma non lo volete capire che il disastro dei genitori è l'origine di ogni problema l'origine di ogni problema di questo nostro mondo si parla di bullismo a scuola giustamente per fortuna per anni non se ne è parlato si parla di violenza sulle donne giustamente si parla di femminicidi giustamente si parla di discriminazioni verso le minoranze quindi altre etnie o persone con orientamenti sessuali diversi dal canonico perfetto ma non si parla mai dei crimini che avvengono quotidianamente in famiglia e questo è inaccettabile perché mi dispiace dirlo ma ogni problema nasce in famiglia femminicidi bullismo razzismi vi assicuro che con delle famiglie decenti tali fenomeni sarebbero già di per sé drasticamente inferiori è il problema dei problemi nessuno ne parla nessuno mette in discussione la sacra famiglia nessuno è un tabù è un tabù c'è il tabù della morte c'è il tabù del sesso ma c'è il tabù della famiglia che deve essere sempre solo elogiata la famiglia questa cosa sacra ma di per sé la famiglia non è un problema dipende chi sono i componenti di questa famiglia non è che mamma e papà di per sé sono una bella cosa altro che Pacciani altro che Totorina io se mi trovassi dinnanzi Totorina qui camera mia ho la maggior parte dei genitori preferirei davvero trovarmi davanti Totorina Pacciani Hitler Hitler preferirei si parla tanto della giornata della memoria per ricordare i crimini del nazismo contro giustamente ma guardate che i genitori medi non sono mica non sono mica migliori di Hitler Hitler ha ammazzato milioni di ebrei e non solo voi ammazzate i vostri figli guardate che non esiste soltanto l'omicidio fisico esiste anche l'omicidio psicologico voi uccidete i vostri figli li avete fatti voi e li distruggete ogni giorno ostacolandoli i genitori dovrebbero essere coloro di cui più potersi fidare per un figlio i genitori dovrebbero essere il massimo della del calore in un mondo brutale orrido pericoloso a casa con i propri cari uno dovrebbe sapere che bello invece pericolo pericolo i primi nemici che non fanno altro che dirti che non vai bene quando va quando va bene e quando va male ti picchiano pure ti violentano pure fisicamente non solo e attenzione non esiste soltanto e quelli sono ancora casi più ripugnanti non esiste soltanto le violenze fisiche le violenze sessuali gli abusi in quel senso lì esistono anche degli altri abusi che non hanno nulla a che vedere con le mani con le violenze sessuali che non sono di minor gravità se tu tutti i giorni svaluti il tuo figlio lo fai sentire una cacca lo fai sentire sbagliato e gli comprometti o gli rendi difficile tutta la sua vita ma secondo te stai facendo un qualcosa di non grave cosa stiamo qui a fare la classifica fra se è peggio lo stupro buttare l'acido in faccia ovviamente psicologicamente una persona tutte cose gravi poi ok possiamo anche stabilire se parlando di carcere dare ad un tipo di reato 29 anni ad un altro 25 ma sono cose inaccettabili e è ancora peggio se si tratta di genitori uno sconosciuto che viene in un vicolo e ti stupra uno sconosciuto che viene in un vicolo e ti deturpa il volto per rubarti il portafoglio ovviamente fanno un qualcosa di orribile ma sono degli sconosciuti quando il criminale quando il violento quando il disumano è che ti ha messo al mondo ma è molto peggio ci dovrebbe essere il massimo della pena o comunque se si vuole essere tolleranti perché a loro volta questi genitori hanno avuto dei genitori che hanno educato in quel modo il massimo degli anni per la rieducazione perché sono persone che non possono stare a piedi liberi e invece no di queste cose non si parla perché non si parla? perché ovviamente in questo mondo conta soltanto il denaro conta soltanto ciò che tocchi con mano e quindi chi se ne frega della violenza psicologica chi se ne frega dell'incapacità ad amare e delle conseguenze che comporta quelle cose lì dai sono cose astratte cose astratte l'importante è che ti togge i tuoi ti diano a mangiare guarda che famiglia rispettata guarda che villetta con piscina guarda come si vestono bene guarda che lavoro che fa quello e anche sua moglie una bella famiglia poi magari non hanno dato un bricio d'amore ai loro figli giudizi costanti e questo determina un sacco di infelicità nel povero figlioletto una povera figlioletta non è una cosa di poco conto ma andate a fare il culo ma vestitevi di stracci ma lavatevi di meno ma andate a vivere in delle capanne anziché in quelle ville con piscina ma andate a comprare i panini dal mcdonald e amatevi di più e risvegliatevi morti viventi zombie che schifo che schifo che schifo ovviamente non è che con genitori orridi le conseguenze sono sempre le stesse poi è un terno all'otto perché esiste l'indole esistono altri fattori cioè chi ha nella maggior parte dei casi chi ha dei genitori del genere diventa un criminale ed ecco il bullo ed ecco il razzista ed ecco lo stronzo ed ecco il disturbato mentale o la disturbata mentale che crea danni agli altri oppure per fortuna alcuni non diventano così diventano magari ultrasensibili molto buoni però soffrono però soffrono siete fortunati se diventate così se siete nati in famiglie orribili e non diventate cattivi a vostra volta ringraziate ringraziate il fatto che soffrite e basta è molto peggio soffrire e fare del male anche agli altri se soffrite basta per carità non è giusto ma perlomeno non vi siete incattiviti dopo c'è tutto un percorso da fare per ritrovare se stessi dovete capire però razionalmente parlando che voi non avete colpe anche se è difficile perché quando sei genitore del genere uno si colpevolizza sente di non valere però sul piano razionale cercate di capire che non è così e piano piano secondo me ce la potete fare però avete capito perché è il problema dei problemi se avessimo delle famiglie un po' più decenti avremmo molta meno sofferenza avremmo molta meno cattiveria in giro avremmo risolto tutti i problemi del mondo altro che guerre risolvi il problema della famiglia non esisterebbero neanche le guerre mamma mia mamma mia comunque è incredibile la cosa che più mi fa schifo è il fatto che ai genitori 96% interessa solamente il voto scolastico del figlio se cerca o no lavoro e se lavora tutto il resto non esiste e se è una figlia femmina vi porta a casa un fidanzato un ragazzo vi interessa soltanto che lavoro fa il tuo ragazzo ma pezzo di merda ma guarda che persona ah dimenticavo voi siete delle merde come può interessarvi o meno che il ragazzo di vostra figlia sia una una merda siete delle merde voi in primis è ovvio che potete guardare solamente che lavoro fa mamma mia che schifezza ragazzi so che so che è difficile so che è difficile perché magari è facile quando le persone esternamente a voi sono delle merde quella è una merda quando le merde le avete in casa e invece di dire mia madre è una merda mio padre è una merda purtroppo molti di voi lo devono dire lo devono dire senza colpevolizzare senza odiare semplicemente descrivendo fattualmente mamma sei una merda papà sei una merda è così poi non ti odio per questo ma sappilo io non devo imparare da te sei tu che al massimo devi imparare ancora tanto io mi tengo molto fortunato ad essere cresciuto con una madre sana come una madre che ha nulla a che vedere con i genitori medi però non per questo non per questo mi dimentico dei genitori di cui molti di voi siete vittime di cui molti di voi sono vittime anzi proprio perché io sono stato lontano a un certo tipo di dinamiche di violenze mi rendo conto ancora di più della gravità perché quando si cresce in mezzo a certa immondizia si pensa pure che sia la normalità alcune persone pensano che sia normale essere picchiati giudicate costantemente io ho un sacco di ragazze che mi scrivono e mi dicono che la loro madre o il loro padre tutto il giorno urla loro puttana sei una puttana storie di madri o padri che sputtano in faccia le loro figlie ma delle robe di questo tipo ragazzi e quando si cresce in questo contesto queste povere gatture pensano beh è la normalità le madri e i padri insultano sputtano in faccia qui c'è di strano eh no c'è molto di strano però è normale che un bambino un adolescente cresciuto in quei contesti poi non capisca più la differenza fa normale no io trovo quindi doveroso sapendo cosa è normale in senso alto denunciare questi crimini poi ripeto non esistono i genitori ottimi livello 100 o livello 0 ovviamente ci sono anche dei genitori che non sono proprio dei criminali o delle teste di assolute e magari hanno semplicemente delle mancanze delle gravi mancanze però anche le gravi mancanze non sono da tollerare eh sono da denunciare poi per carità meglio avere delle gravi mancanze che essere dei criminali delle teste totali però anche le gravi mancanze vanno denunciate perché le gravi mancanze portano anche a delle conseguenze a quel povero bambino che ha solo avuto la colpa di così di trovarsi al mondo per decisioni altrui quindi uno me ne so al mondo ha come genitore o dei criminali o delle teste di cacchio o dei limiti assurdi e magari deve pure ringraziare grazie mamma che mi hai messo al mondo grazie mamma e papà per tutto quello che fate per me cazzo fate per me la maggior parte di voi la maggior parte delle persone a parte che in generale non ha senso ringraziare per essere state me ne so al mondo ovviamente ma la maggior parte dei figli al massimo al massimo devono uscire col tempo a perdonare i propri genitori per i crimini subiti altro che ringraziare io posso dire tranquillamente non ringrazio mia mamma per aver messo al mondo perché non è un dono mettere al mondo qualcuno però ringrazio mia mamma per il fatto che mi hai dato amore mi dà amore in modo decente ed è molto meglio della maggioranza delle altre madri sono contento mi ritengo fortunato in questo senso molti di voi non sono fortunati però nulla è perduto spero che il mio il mio canale i miei video vi possono essere d'aiuto poi chiaramente i miei video non possono di per sé salvare tutti voi dall'infelicità dai problemi di autostima però spero che possa essere uno spunto per ok capire la verità rimboccarsi le mani e dire io valgo anche se i miei genitori mi fanno sentire una merda sono loro forse le merde togliamo il forse ovviamente 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 questo lo può dire questo lo può dire chi è buono d'animo se tuo figlio diventi una persona che fa del male agli altri dalla mattina alla sera tutte le persone che incontra tu a tua volta le danneggi non sei tanto diverso dal tuo padre e dal tua madre magari loro sono i responsabili del fatto che anche tu sia molto simile a loro o comunque abbia preso certe pieghe però prima di accusare i tuoi genitori guarda te stesso e non prendere quella direzione lì lotta per non diventare una merda perché io sto dalla parte di quelli che soffrono di quelli che subiscono ingiustizie ma non diventano delle merde a loro volta se no che cazzo di cazzo vi lamentate di cazzo vi lamentate di cosa vi lamentate se anche voi fate del male agli altri se tu hai subito del male dovresti capire cosa vuol dire subire del male e quindi cerca di agire il più possibile per non fare male agli altri non è che ho subito allora voglio fare male ad altri che non c'entrano se no cosa ti scagli a fare contro i tuoi genitori anche perché i tuoi genitori a loro volta avranno subito qualcosa quindi le catene vanno spezzate poi è ovvio che probabilmente il criminale di turno il pezzo di merda di turno che fa male agli altri non lo sceglie è un meccanismo che sorge anno dopo anno certamente però una volta che la realtà è evidente guardatevi dentro ok io subito tante oscenità ma mi guardo sono diventato un mostro anch'io ma posso continuare così in questa breve vita no cazzo devo fare di tutto provarci almeno per non fare del male agli altri non è che perché ho subito del male sono giustificato a fare del male agli altri provateci una bacia a tutti condividete il video e a presto se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina patreon cliccare in alto a destra su become a patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1 2 5 10 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda